Sì, sì, a Mirella parlava un grande libro, che io non ho capito. Sì, sì, poi un grande libro è vero. Però ha parlato il perché. E dopo dopo sentiamo. Io già ho avuto da Mirella, c'è scritto, un suo giudizio. Ha detto, dice, è bello e è scritto bene, bene. Perché io lo devo dire, attraverso la sensitiva. Ma dite delle cose. Lo conosco bene, ma so che cosa fanno. Lo conosco bene, so di cosa parlo. Cosa fanno? Parla degli inglesi, forse, non so. Mi avevo parlato degli inglesi, ma loro non ci sono qui. Questo ci facevo fino a io. E poi deve bastare uno, due. Franco, ecco io. Sì, sono qui, sono qui. Mi volete dare delle istruzioni? Io le ascolto sempre, ve lo sapete voi, eh. E cerco di seguirle, non dico che le seguo. E quindi mi pensi che mi porti l'uomo, mi rinca e con lei. E con l'uomo. E con l'uomo. E con l'uomo. E con l'uomo. Fania, dentro di lei e ti porta lontano la fada, E parte, ecco. Ora l'ho capito con lei. Il profumo della maga? Eh, sì, infatti. Il profumo della maga. Mi ha portato... Mi ha portato proprio all'apice. Penso. ... ... ... esco ormai, si dice questo, ma la scuola è venuta da qui si è un significato di quello che era accaduto. La mia amata porta con sé il significato di quello che era accaduto e parlano sempre di te, ma non c'è mica Franco solo stasera? Sì, non voglio monopolizzare, parlate anche degli altri, vi prego, che io sono già contento così sono felice. Grazie.